Ciao a tutti ragazzi, sono Andrew Rozza e bentornati sul canale Oggi, ragazzi, super video Ed è video Calciatori Panini Ed ecco a voi, non c'è manco bisogno di spiegare che cos'è Il set di aggiornamento finalmente uscito Dell'album Calciatori 2021-22 Quindi il set di aggiornamento e ce lo vediamo tutto assieme Per prima cosa però, ragazzi, voglio salutare Andrea e Martina Che mi avevano chiesto sui precedenti video di essere salutati Ovviamente ricordo che se volete essere salutati sul mio canale Basta commentare sotto Come commento spesso, lo sapete che registro i video un pochettino assieme Tra virgolette anche 3-4 video lo stesso giorno Quando ho la possibilità per motivi lavorativi E praticamente quindi spesso le richieste le vedete esaudite Magari dopo una settimana Ma non perché mi sia dimenticato Proprio per questo fatto qua Per cui io adesso ho letto Sto registrando ora i video della prossima settimana Quindi vi saluto in questo momento Per cui credo che questo video dovrebbe uscire Lunedì... Boh... La settimana, insomma Lunedì... Dovrebbe essere lunedì 21 agosto Scusate, lunedì 21 marzo Per cui, ragazzi Mi raccomando Seguitemi sempre Quindi un caro saluto Adesso ricordatevi di iscrivervi al canale E adesso sigla E partiamo con l'apertura Eccoci ragazzi Ed ecco qua Il super pack della Team Box In tutta la sua bellezza Costo 9,90 E vedete Contenimento di 40 figurine di aggiornamento Quindi trasferimenti Ci sarà la checklist 20 figurine La più amata Che finalmente si va a completare Il coupon per la collezione digitale Della serie C Che questo dovrò tenere Ma non preoccupatevi Perché ho pensato anche a voi Poi la checklist Il mini sticker Quello del trasferito sostituito Da mettere sotto negli album Ovviamente ragazzi A breve Questa settimana uscirà anche Un altro episodio di Guida al collezionismo Dove finalmente parlerò delle figurine Vi ricordo che Guida al collezionismo È una serie dove io parlo E faccio delle piccole guide su come collezionare le cose Quindi ragazzi Io vi ripeto Che non è Che sono un professionista Però Mi baso sulla mia esperienza Che ho Ottenuto nel corso degli anni E ovviamente Se qualcuno ha qualche altra idea Può suggerirla sotto E ovviamente Altra cosa È che ragazzi Quello che io vi dico Non è che è un dogma Cioè vi do Tante soluzioni Poi ognuno è libero Di fare come Meglio chiede Perché ragazzi Il bello del collezionismo È che voi potete collezionare Qualsiasi cosa E come volete Avevo pensato a voi E se siete E state fino alla fine del video Ecco questi tre pacchettini Omaggio Da spacchettare E vi do i codici Ma Bando alle ciance Partiamo con l'apertura Allora ragazzi Beh Sicuramente il team di quest'anno È a mono Mono Monocolore Tra virgolette Anche se non è proprio il termine corretto L'anno scorso C'erano Le team del 2021 Che erano Con più pacchettini Diciamo Quindi con più Artwork Quest'anno È così Però ci sta L'anno scorso Era una ricetta speciale Quest'anno Classica Calciatori Riprende lo stile Classico Belle anche queste Per tenere magari Le figurine Come picco Il collezionismo Ma lo vedremo appunto In quel video Dedicato apposta Apriamo E vediamo un po' Il pacchetto Bella La scatola di latta La mia fidanzata Ne sarebbe Gelosa Perché Le amano molto Queste scatole di latta Vediamo Il contenuto Bello Importante Allora Qua Classico Tipo stile Dei pacchettini 5 euro Se siete persi i video Ci sono Fondamentalmente Questi ipotizzi Trasferito Esatto Allora Vediamo un pochettino Qua c'è il codice Scusate ma Questo mi serve Quindi Lo tengo via Qua abbiamo La Mitica Checklist La Checklist Presenta Tutti i giocatori Che sono Stati Trasferiti Sostituiti Vediamo Tipo Con Jeremie Bogat M.U. Mihaia E Atebor Con M1 M2 M3 I trasferiti Che ovviamente Tipo Molti Sono anche I calciatori Che non erano Stati rappresentati Tipo Atebor Non c'era Nell'Atalanta Poi ci Ci sono appunto Gosens Lovato E Piccoli Per cui Nel senso Voi dopo Quando andate Sotto Vedete Figurina 14 Sotto Gosens Andate a Posizionare Questi Che sono Gli sticker Trasferiti Questo è un cartoncino Classico Sostituito E trasferito Sostituito È per L'allenatore Ovviamente Tipo Ci sta Per esempio Prendiamo Il Genoa Vedete Trasferiti Tutta Tutta Questa Sere Di Giocatori Qua E Andrish Evchenko Appunto Sostituito Come vedete L'indicazione La panina Puoi utilizzare Strisce Trasferito Sostituito Per evidenziare I giocatori Ceduti E Rienitori Impiazzati Ciascuna Squadra Dati Aggiornati Al primo febbraio 2022 Chiaramente Qua c'è la panina Più amata Con tutti i giocatori Quindi ci saranno Dei bei giocatori Che adesso poi Andremo a Vedere Tutti assieme Vedete Nel Milan Ad esempio C'era De Krunic Che è stato Inserito E poi L'unico Acquisto L'Asetic Ceduti Pellegri Vabbè Pizzarri Conti Che però Di fatto Non ci sono In collezioni Non c'erano Non erano stati Rappresentati Come Figur Ma adesso Ragazzi Chiudiamo Questa mitica Checklist E vediamo Assieme Un pochettino Quelle che sono Le figurine Effettive Allora Ovviamente La Ruki Di Zaccaria Che Arrivato A Mieri Parisi Dell'Empoli 2000 Credo che Più che altro Che lui Sia stato Fatto Sia stata Fatta La Figu Poi Migala Della Migala Della Atalanta Ecco La figurina Di Krunic Che poverino Lui non aveva Avuto la sua Figu Pensando che Fosse una Riserva Della riserva Invece Questa Non ha giocato Veramente Tanto E comunque Ha giocato Bene Quando è Sato Chiamato In Cauda De Paoli Marco Benassi Che appunto Il trasferimento Abishar Ruchi Per il Bologna Axel Tonzeve Del Napoli Felipe Caicedo Appunto Il trasferimento Per l'Inter Jonathan Iconi E qua Ragazzi Troverò Finalmente Vlaovic Perché Suppongo Di sì Attenzione In realtà No Non è uscito Qua Diego Milito Iniziamo Un po' Sono un po' Sparse Con La maglia Del Genoa Appunto Della stagione 2008-2009 Qua ci sono Delle figure Importanti Ed eccolo Qua La prima Maradona Dell'87-88 Con lo scudetto Di Campione D'Italia Coppa Italia Fantastico Pulici Del Toro Ragazzi Cioè Qua Abbiamo Delle figurine Incredibili Quindi Questo video Va visto Solo Per queste Figurine Qua Cioè Guardate Queste Anche solo Maradona Pulici Diego Milito Per dire Poi c'è Nani Incredibile Mai detto Del Venezia E qua ragazzi Torniamo Con un grande Di Natale Con la maglia Dell'Empoli Poi c'è Hanno scelto Ciro Immobile 2019-2020 Non so bene Come abbiano scelto Poi c'è Berardi Del Sassuolo E qua ragazzi C'è Giampaolo Che sostituisce Versa Sulla panchina M31 E ragazzi Qua Mamma mia Ragazzi Qui abbiamo Due giocatori Incredibili Cioè Ve li lascio Proprio Per quanto Sono belle Queste figurine Ronaldo Dell'Inter Del 97-98 Roby Baggio Dello stesso anno Qui Guardate anche Come era la grafica Me ne ricordo Perché queste qua Ce le avevo In collezione Quando ero piccolo Quest'album qua Roberto Baggio Era una delle mie Figur preferite Di Vaio Mamma mia Con i capelli Giovanissimo Poi Pippo Maniero Ragazzi Sono giocatori Che Quelli che hanno La mia età Ci dovrebbero ricordare 97-98 Cioè 98-99 Fantastica scelta Ed eccolo qua Dusan Vlaovic Finalmente Lo trovo Ovviamente Non l'originale Quello della Fiorentina Che spero di trovare Ma C'è Finalmente Quello della Juventus Trasferito Poi abbiamo Ovviamente Subito dopo Vlaovic Non potevano che aver messo Cabral Della Fiorentina L'uomo chiamato A sostituire Vlaovic Baselli Poi c'è Germi Boga Che passa Dal Sassuolo All'Atalanta Cabral Della Lazio Però questo rookie Roberto Piccoli Che è passato Appunto Dall'Atalanta Al Genoa Valerio Verre Atebor Che stranamente Non avevano fatto La figurina Incredibile C'è Atebor Uno dei giocatori Più importanti Ed ecco la rookie Di Lazetich Quindi ragazzi Questo giocatore Un po' Al momento misterioso Ma è dato Comunque vedete Classe 2004 Quindi super giovane Robin Gosens Che passa Dall'Atalanta All'Inter E Christophe Piontek Che è appunto Arrivato anche lui Alla Fiorentina Goldaniga Del Cagliari E poi ragazzi Altre bombe Incredibili E qua ragazzi Ci sono Super Gabriel Omar Battistuta Un giocatore Incredibile Dal punto di vista Cioè Degli anni 90 Fortissimo Questo è Ritato La Fiorentina Campione d'Italia Con la Roma Per il Milan Hanno scelto Ricky Kakà Del 2006-2007 L'anno ovviamente Che ha vinto Poi La Champions League Il Milan È una scelta Comunque Che ci può stare Pensavo Scelessero il classico Maldini Però ci sta Qua Massimiliano Guidetti Dello Spezia Del 2006-2007 E poi Passiamo Con Il simpatico Gabriele Cioffi Dell'Udinese Sapete Perché Lo definisco Fatemi sapere Nei commenti Perché Se qualcuno Sa perché L'ho definito Simpatico Lascio Subito Un cuore A chi È il primo Che lo dice Che Dà la risposta Poi c'è Luigi Riva Del Cali E ragazzi Anche questa È comunque Storia Del Piero Della Juventus 97-98 E Mancini Della Samp Giustamente Sono delle belle Queste sono veramente Belle figurine Ecco Mister X Blessin L'uomo che ha fatto Sette pareggi consecutivi Incredibile Poi c'è Hanno scelto per l'Atalanta Un Cristiano Doni Del 2008-2009 E Luca Toni Per il Verona Giusto E ragazzi Alla Roma Non poteva non esserci Francesco Totti Questo è l'anno 2001-2002 Ossia il post Scudetto Della Roma Infatti vedete Che è ritratto Con quello Poi c'è Sanchez Dell'Udinese Sì perché hanno scelto Di Natale Con l'Empoli Quindi ci sta Anche che ci sia Sanchez Per l'Udinese Vediamo gli altri Trasferimenti Con Ricci Fazio Pellegri Che è passato appunto Dal Milan Al Torino Simone Verdi Che è passato Alla Salernitana Pablo Marie Dell'Udinese Andrea Conti Che prende la sua figu Finalmente quest'anno Ed ecco qua Poi vabbè ragazzi Questi sono tutti Sono I loro Trasferiti Che potete mettere Sotto i giocatori O sopra i giocatori Ma lo vedremo Un pochettino Poi c'è Thomas Rincon Nile Stefano Sensi Che è passato Alla Samp Sergio Oliveira Che è appunto Ruki della Roma Sebastian Jovinco Che è tornato In Italia Dai Toronto A Svernaccia È tornato Per cercare Un campionato Più competitivo Che non abbia Fatto presenza Ancora Poi chi è Gyan E poi ragazzi Queste sono Trasferito E poi sostituito Per gli allenatori Che di fatto Comunque Sono pochi Per cui Queste sono le figu Molto belle Ragazzi Sono veramente 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 Soddisfatto Adesso facciamo Adesso facciamo Adesso facciamo una Carrellata Ancora Di quelle che sono Le figu Cioè Guardate qua Che tanta roba Le più amate Ovviamente Vabbè Qua togliamo Lui che non c'entra Niente E vabbè Vlaovic Ma non c'entra Niente Con le più amate Però Ero contento Ragazzi Già solo Questa figurina Qua di Maradona Tanta roba Veramente Veramente Belle Le figu Sobretutto Mi rievocano Tanti ricordi Del passato Ovviamente Ragazzi Siamo arrivati All'apertura Se siete arrivati Qua Delle bustine Ma spero Di sì Bremer Tra l'altro Troviamo subito Gagliolo Lautaro Martinez Mike Mignon Doppio Kiriches E il codice Per voi Ovviamente Ragazzi Vediamo Se riesco A trovare Di fatto Quello Che il vero Vlaovic Quello della Fiorentina Quello originale Del pacchettino Secondo pacchetto Troviamo Grassi Troviamo Donna Rumma Drini e Benetti Del Cittadella Team Venezia Svoboda Lo stiamo a Fiorentina E il codice Ragazzi Non ci siamo ancora Vediamo Vediamo Ibra Vlaovic Finirati Dovrò ordinarli Loro Perché Non li riesco Davvero a trovare Sembra un mistero Incredibile Gian Daniel A pro Della Lazio Poi ci sono I portieri Del Pisa C'è La maglia Della Lazio C'è Alexis Sale Macchiers Che mi mancava Del Milan E anche Pier Calulù Grandissimo Giocatore Importantissimo Per il Milan Quindi sono contento Dai E il codice Ragazzi Bele Tre pacchettini Ovviamente Mega collezione Qua ragazzi Bombe Incredibili Vedremo un pochettino Come sarà L'aggiornamento Grazie per essere stati qua Su tutto il video Se siete arrivati Fino alla fine Un grosso saluto E ci vediamo In un prossimo video Ciao Ciao